Ciao a tutti ragazzi, io sono Maya e io sono Dennis e insieme siamo tutti gli unicorni. Allora, questo è nostro primo vlog, quindi non prendeteci in giro. Fate molti like. Allora, tu quanti anni hai? E tanti coricini? Sì, te quanti anni hai? Io ne ho 27 anni. Io ne ho 8 e il mercoledì prossimo ne faccio 9. Allora, ora parla a te. Ma no, è stato l'autorità di parletà. Ok, allora, oggi sono andata a scuola. Vabbè, quello non c'entra, non stiamo parlando di scuola. Vai, raccontaci. Scusa. Scusa. L'ho supplicato, ho pianto per andare alla di giro per prendere la mia borrazia preferita, cioè con Stitch. Allora, la mamma un po' di settimane fa, giusto? Sì. Io la nascondo, io la nascondo qua, così non lo vedono tutti. Ma cosa? Perché io prego la birra con il bambino in braccia. Allora. Va bene, bevo. Poi. Lo sta facendo veramente. Allora. E vabbè, siamo andati. Sì. Che bella che sono. Siamo andati. E vabbè. Abbiamo girato perché lui voleva girare lì. No, praticamente questa era di Geo. E praticamente dovevamo fare così e poi andare dalla Primark. Ma visto che io volevo fare più veloce, facevamo così. Eravamo già alla Primark. Invece lui ha voluto fare di così, di così, poi così, poi andare alla Primark. Cuore di testa. E abbiamo cambiato il pigiama della mamma. Poi vediamo se ve lo faccio vedere se riusciamo. Basta! Oh. Puzza! Eh. E abbiamo comprato la mia borraccia. Mi sa che siano più... Posso fare lì dietro? Stop! E... E vabbè. L'abbiamo comprata con un stitch. Oh! Eccola qua! Con un stitch. Allora, tipo, poi c'è il beccuccio. Vedete? Così. Andiamo ancora a lavare. Non è tipo di silicone, è proprio di plastica. E... Ho già visto. Poi guardate. Stitch, 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 stitch. E... Qua con la scritta. E poi ci sono i berlantini. Guardate. Aspetta. Vedete che scendono? Ecco. Oh! Aspetta. Non so se li vedete. Aspetta, li vedete? Sono tutti qua. E allora guardate come scendono. Mmh. Ce ne sono un sacco. E cioè, io domani sono curiosa di provarla. Allora ragazzi. Dovete darci... Cioè, per favore iscrivetevi perché è il nostro primo video. Vedete? Vorrei tanto... Ma tanto love nei commenti, eh. Sì, per favore, per favore. Vorrei... Vabbè, questa è la mia gomma di scuola. Facciamo un po' felice questa bambina. Sì. Questa è la mia gomma. Felice, molto felice. Poi... Normale. Poi... Triste. Poi triste. E arrabbiata. Che è molto cringe. E allora... Cringe. Piace il mio maglione? Poi, quando inizieremo a fare un po' di più, faremo anche dei live. Ok. Ragazzi. Salutateci nei commenti. Spero che vi piacciano i nostri video. Non fate caso al bruffolo. Come lo chiami? Gino? Sì, Gino. Ok. Gino è un bruffolo come Gino. Per favore, dateci like. Commentato. Convichiletelo. Love. Per favore, abbonatevi. Iscrivetevi, fate di tutto. Per meglio. Speriamo che non vi siamo antipatici. Speriamo che non siamo tanto cringe. No! Non ascoltatelo. Però speriamo che i nostri video ci prendi. Mi piacciono. Bye! Bye bye! E chiuditi!